auto demolizioni signor a villorba dal 1969 al vostro servizio rotamazione auto vendita ricambi nuovi usati vendita auto vetture sinistrate o usate benvenuti al meteo in veneto per domenica 25 luglio il tempo sarà incerto e molto variabile specie sulle zone montane e pedemontane dove non mancheranno rovesci minime dai 19 gradi di belluno massime fino ai 36 gradi di rovigo per lo più nuvoloso anche in friuli venezia giulia temporali sono previsti tra udine e pordenone e nella fascia alpina temperature minime intorno ai 19 massime fino ai 32 gradi mare da calmo a poco mosso tempo instabile anche in trentino alto adige dove si prevedono temporali e rovesci soprattutto nella fascia meridionale temperature minime da 19 gradi le massime invece potranno toccare i 33 gradi dal meteo è tutto arrivederci auto demolizioni signor a villorba dal 1969 al vostro servizio rotamazione auto vendita ricambi nuovi usati vendita auto vetture sinistrate o usate